E' stata inaugurata a Napoli la nuova sede territoriale di Cassa Depositi e Prestiti, nell'ambito del più ampio progetto finalizzato a rafforzare la capacità di intervento del gruppo in Campania, non un ufficio di rappresentanza ma un punto di riferimento operativo, grazie alla presenza di professionisti capaci di rispondere alle esigenze delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, territorialità e il focus su cui Cassa Depositi e Prestiti ha deciso di puntare nel mezzogiorno come nel resto d'Italia. Per noi una presenza territoriale significa riavvicinarsi al territorio, ovvero alle imprese, agli enti pubblici e all'infrastruttura in generale, ma chiaramente anche portando tutto il nostro sistema di relazioni con le nostre partecipate. Considerate che poi con il nostro portafoglio partecipativo qui siamo molto presenti in Campania con aziende quali la Fincantieri, Snam, Terna, Italgas, la stessa Cadrion, diciamo una copertura su tutti i settori dell'economia italiana. La giornata è poi proseguita alla ex manifattura tabacchi, oggetto di una riqualificazione urbana che vede protagonisti Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Napoli. È stato qui firmato un protocollo d'intesa tra CDP e ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. È un presidio per il Sud ed è molto importante che ci sia una grande collaborazione con la Farnesina, con il Ministero degli Esteri e con anche l'Agenzia per il Commercio Estero che da pochi mesi è sotto la Farnesina perché le imprese del Sud purtroppo contribuiscono solo al 10% di tutto l'export nazionale eppure hanno da portare nel mondo, da esportare nel mondo made in Italy di eccellenza che sono sicuro farebbe innamorare tutti i popoli dove andiamo a promuovere le nostre imprese. Nello specifico l'accordo prevede una mutua presenza mediante desk di CDP e ICE nelle rispettive sedi tra le quali quelle estere di ICE. Noi siamo tanti attori, l'ICE si occupa di promozione, la SACE si occupa di finanziamento del credito, la SIME si occupa di finanziamento degli investimenti, la CDP ha una rete molto forte sul paese e con queste bellissime iniziative la sta estendendo, noi abbiamo una rete molto forte in 86 di esteri. L'idea è quella di fare tutti quanti sistema e di poter offrire alle imprese, particolarmente alle piccole e medie imprese un supporto più facile, più accessibile e più efficace. Cassa Depositi e Prestiti offre quindi un modello integrato di servizi sempre più adeguati allo sviluppo del territorio. Credo che la capitale del Mezzogiorno, Napoli, sia in una fase di importante sviluppo, credo che anche l'inaugurazione di questa mattina dimostri come questo paese guardi con grande attenzione agli investimenti. L'apertura oggi di CDP, la piazza Garibaldi, la scelta dell'alta velocità al sud e dell'accelerazione degli investimenti all'alta velocità al sud sono decisioni che vanno in una direzione chiara, rilanciare le infrastrutture nel sud. Grazie a tutti.